Motore! Azione! Azione, un attimo maestro che metto a posto la telecamera. Ma stiamo girando un film con la fotocamera nel cellulare? Maestro, lo budget. Vabbè, vabbè, dai, andiamolo, giriamolo, portiamolo a casa sta cosa, dai! Ma dov'è l'attore? Ah, maestro, mi sono dimenticato di dirle una cosa. Mio cugino non può perché ha la cresima di suo nipote. No, vabbè, non è possibile lavorare in queste condizioni, io me ne vado, io me ne vado! No, no, così non funziona, troppo tempo! Se sei arrivato a questo video è perché sei in difficoltà con il tuo primo film. Non scoraggiare! Abbiamo creato facciunfilm.it Una piattaforma che ti aiuterà passo dopo passo nella realizzazione del tuo progetto, seguendo dalla fase di pre-produzione alla post-produzione. Noi ti aiutiamo nella scrittura della sceneggiatura, seguendo i più comuni modelli utilizzati in ambito cinematografico, quello italiano, quello americano, quello francese. Ti aiutiamo nello spoglio della sceneggiatura, quindi a estrapolare tutti i documenti necessari, a stimare i costi e a favorire l'organizzazione e il reperimento di tutto ciò che ti serve nella fase di riprese. A disegnare lo storyboard consigliandoti inquadrature, movimenti di macchina e posizionamento delle luci, a indicarti i formati più appropriati per l'esportazione del tuo progetto finito sulla base del canale di distribuzione che sceglierai. Se ti dovessi sentire solo, non preoccuparti! All'interno del sito troverai una sezione dedicata al reclutamento delle maestranze e al reperimento delle attrezzature nelle zone più vicine a te. Adesso ti chiederai quanto mi costerà tutto questo? Facciunfin.it è un progetto improntato sulla logica dell'all budget e quindi ha lo scopo di minimizzare le spese a tuo carico. Beh, non ti rimane che iscriverti e a me riaugurarti buon lavoro! Allora, siamo pronti per girare? Attori in posizione, truccatoni fuori! Allora, siamo pronti per girare? 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 Grazie.